Poco prima che tu nascessi... abbiamo perso un bambino. Abbiamo perso un bambino, ma di che... di cosa stai parlando? Anna, non è come me. Non è come te, non è come noi. E lo sai pure tu, questo. Abbracciami. Maurizia, Maurizia... Maurizia... non esiste noi. Quello che tu ammetterei è aver fatto del male a Maurizia. Ha pure cercato di convincermi che mia mamma avesse un amante, un tipo che si faceva chiamare il genio ribelle, una cosa del genere. E lui è convinto che questo tizio fossi tu. Io non posso perdervi per colpa di quello che abbiamo fatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.